allora di nuovo buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar sul tema della sicurezza delle informazioni e come sapete con il progetto fast stiamo accompagnando i piccoli comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse e per l'ambito a della transizione digitale appunto a procedere diciamo nella digitalizzazione del proprio comune dei propri servizi consapevoli appunto che le difficoltà sono tante stiamo cercando non solo di accompagnare i comuni con attività proprio svolte a fianco con fianco a voi con l'aiuto appunto di task force regionali che vi stanno accompagnando diciamo su diversi micro progetti che stanno conducendo con voi un'analisi e una fotografia di quello che è lo stato della digitalizzazione del vostro comune stiamo cercando anche di accompagnare diciamo questo percorso che ci accompagnerà insomma che avremo un progetto insomma durerà fino alla fine del 2025 con dei dei micro progetti micro progetti che sono di transizione al digitale che sono appunto proprio orientati a cercare di colmare alcuni gap diciamo che possono emergere dalla fotografia e dall'assessment che con voi stiamo facendo proprio diciamo su quelle che sono su quella che è la digitalizzazione nel vostro comune e diciamo che questo la prossima il questo webinar sarà appunto sul tema della sicurezza delle informazioni avete avuto già modo di conoscere il nostro relatore che appunto david herris che appunto è un esperto di sicurezza che si è occupato per tanto tempo insomma anche nell'ambito di comune stato direttore generale del comune di nuoro e nonché appunto anche dirigente di una di un'importante società partecipata della regione sardegna in tema di diciamo di innovazione tecnologica in tema di informatica quindi eh David ci racconterà oggi diciamo che cosa significa sicurezza delle informazioni come si può soprattutto si possono mitigare diciamo i rischi attraverso diciamo anche una maggiore consapevolezza di ciascuno di noi nel trattare il nostro hardware del nostro software le nostre applicazioni e eh diciamo questo può essere fatto anche con delle accortezze e delle attenzioni che vanno oltre diciamo quelle che eh vengono assicurate dai fornitori appunto delle nostre applicazioni quindi questo è molto importante da sapere e da averne insomma la dovuta consapevolezza e chiederei a David di accendere la sua webcam e di attivare il microfono e eh direi che possiamo cominciare la sua presentazione mi dai lo schermo ok buongiorno a tutti grazie Irene ma deve fare un piccola correzione si è vero scusami quando parliamo di sicurezza delle informazioni di un sistema informatico noi sappiamo che dobbiamo garantire tre cose la confidenzialità cioè solo chi è autorizzato a leggere i nostri dati lo può fare integrità solo chi è autorizzato a modificare i dati lo può fare e la disponibilità i dati devono essere accessibili a chi è autorizzato e problemi che si tratta di problemi piuttosto complessi oggi vogliamo solo guardare gli aspetti interessanti per un piccolo comune e la prima domanda è perché vogliamo parlarne oggi e perché il governo italiano sta ponendo così tanta attenzione alla sicurezza delle informazioni e il motivo è semplice siamo sotto attacco questa un po' di informazioni questa fine novembre un attacco alle aziende sanitarie di Modine a dicembre 8 dicembre massiccio attacco a enti pubblici oltre 1300 pubbliche amministrazioni comune anche strutture molto più grandi ministeriali sono stati colpiti e messo fuori gioco per non poco tempo ancora a gennaio fine gennaio scorso un altro attacco contro la regione Basilicato e questi sono solo gli ultimi degli esempi dei problemi di sicurezza di cibersicurezza il problema è che è in crescita enorme a livello mondiale in 2022 rispetto a 2021 c'è un aumento di 125% tutto è in crescita in Europa in America del nord ovunque e in Italia in 2022 la pubblica amministrazione era il settore più colpito dai cyberattacchi lo vedete in basso noi siamo il bersaglio preferito e il tipo di attacco è piuttosto interessante questo è sempre dati 2022 oltre il 35% 34% sono stati fatti dal malware c'è l'introduzione di virus e altre cose tipicamente attraverso lo scarico dal web o l'apertura di un'email o qualcos'altro che contiene un virus o qualcosa di simile poi gli attacchi di phishing e ingegneria sociale incidono in una misura molto maggiore in Italia nel resto del mondo siamo a circa 14% più di phishing più 8% verso meno di 8% nel resto del mondo e per phishing solo per essere chiaro si intende un tipo di attacco che consiste nell'inviare delle email malevole scritte appositamente con lo scopo di spingere le vittime a cadere in un trappolo cioè si cerca di ottenere informazioni bancarie, le credenziali di accesso o altri dati sensibili poi abbiamo visto una significativa, un'importante crescita nella cosiddetta denied, distributed denial of service, il 30% e questo semplicemente significa che un intero una massiccia attacco numerica cerca di affogare il server di un ente questo è tipicamente utilizzato dai cosiddetti hacker o hacktivist perché è un attacco di natura mediatica si sta cercando di ottenere l'attenzione mediatica su cose politiche o sociali infatti un esperto dell'Agid e anche Clusid che è la principale società italiana di sicurezza informatica ha detto che lo scenario è caratterizzato dalle pressioni legate al conflitto russo e ucraino e quindi c'è stata questa grossa crescita perché il settore pubblico è preferito dagli attivisti e quindi si è visto un incremento in 2023 di un altro 30% negli attacchi classificati come hacktivism e questo termine significa che deriva dall'unione delle parole hacking e activism e indica un tipologia di attivismo effettuato mediante pratiche derivanti di un'azione diretta e digitale in stile hacker quindi questo è sempre in crescita e se le cose erano male in 2022 sono peggiorate in 2023 questi slide sono da un recentissimo convegno della Clusid che come ho detto poc'anzi è la principale società che studia le problematiche di sicurezza delle informazioni in Italia questo è il loro convegno di proprio due giorni fa e si vede che in 2023 il numero di attacchi è continuato a crescere abbiamo visto una crescita di 40% nel primo semestre rispetto all'anno precedente e l'Italia rappresenta quasi 10% del totale mondiale delle vittime e di questi attacchi quasi l'80% sono attacchi gravi o gravissimi questa è la crescita Italia verso il globo un po' dei dati su chi sono le vittime in Italia si vede in rosso parliamo del governo, delle enti pubbliche in blu abbiamo 12% qua sono finance e così via quindi siamo sotto attacco le vere tecniche continuano a crescere in venti 36% malware, phishing e social engineering in verde e così via quindi resta in Italia fondamentale mantenere una forte attenzione sul tema della consapevolezza delle persone infatti la crescita dell'87% degli attacchi di phishing e engineering in verde e sociale testimoniano che quanto fatto fino ad oggi non è certo sufficiente quindi dobbiamo di fronte a queste crescenti minacce dobbiamo fare una riflessione e vedere quale azioni possiamo fare per mitigare gli impatti negativi una precisazione prima di scendere dentro ci sono spesso confusi terminologie la sicurezza informatica è il nucleo della sicurezza e parliamo di file sui computer o database software, applicazioni e server e quella fa parte dell'ambito più grande che la sicurezza è stesa al cyberspace e quindi abbiamo tutte le complessità della rete, dell'internet, della criptografia dell'informazione in transito fra un server e un altro server problematiche dell'email, firewall e così via però stiamo parlando delle attività criminali è agevolato specificamente attraverso i collegamenti internet infine l'ambito più esteso è proprio la sicurezza delle informazioni e qui si estende il concetto di sicurezza oltre alla informatica e alle collegamenti in rete anche a livello fisico, accesso ai server, ai data center ai dati, all'organizzazione, alla cultura organizzativa ai processi e alle persone perché come abbiamo detto gli attacchi di tipo phishing e ingegnerie sociali sono mirati direttamente al comportamento delle persone più su questo dopo le fasi di sicurezza sono fondamentalmente divisi in tre la prevenzione, il rilevamento e la risposta ok, l'ideale è prevenire un attacco ma la prevenzione è l'aspetto della sicurezza più difficile perché stai giocando in difesa e quando giochi sempre in difesa prima o poi l'attaccante riesce a passare quindi si fa quello che si può per rendere la vita difficile è particolarmente importante questo in un piccolo comune perché generalmente se riusciamo a rendere la vita difficile per qualcuno di entrare nei sistemi di un piccolo comune non hanno interesse a usare sistemi super sofisticati perché un piccolo comune non ha quel tipo di dati quindi spesso si riesce a bloccare queste si ha la nascita con un minimo di prevenzione poi chiaramente si deve avere rilevamento devi capire che c'è stato un attacco qualche volta non è così evidente perché qualche volta non toccano il tuo sito web non bloccano i dati ma entrano ancora questo è meno prevalente in un piccolo comune quindi molto più prevalente in sistemi bancari e infine c'è scusate la risposta che tipicamente è composta in una serie di cose che vanno dalla reazione la mitigazione cerca di focalizzare sugli aspetti per limitare il danno di ripristinare il sistema dopo l'attacco e poi l'analisi forense cioè l'analisi post-attacco per determinare cosa è successo e come migliorare i sistemi di sicurezza nelle pilastri della sicurezza ci sono come dicevo le persone processi dati e storicamente e attualmente le persone rappresentano probabilmente il rischio più grande per persone intendiamo in questo caso il personale come gli altri individui con cui un'organizzazione un comune può entrare in contatto ad esempio i fornitori secondo un recente report di Verazon il 93% delle violazioni dei dati arrivano da phishing o altre forme di ingegneria sociale e affinché questi attacchi di phishing abbiano successo l'aggressore ha bisogno di un bersaglio a cui abbocare e i dipendenti sono spesso i bersagli ovvero i pesci che abboccano quindi la formazione e la sensibilizzazione dei dipendenti dell'ente ai rischi e di assoluta importanza nella lotta per la sicurezza alle informazioni poi i processi sono fondamentali per l'implementazione per un'efficace strategia cioè deve definire come le attività i veri ruoli e la documentazione di un'organizzazione vengano utilizzati per mitigare i rischi e protetti dagli attacchi e questo pilastro di processo è costituito da diverse parti i sistemi di gestione la governance, le politiche dell'ente e la gestione delle terze parti tutti questi devono essere affrontati affinché il pilastro sia efficace infine abbiamo la protezione dei dati e delle informazioni e questo è il componente più tecnico dei tre pilastri e in un piccolo comune questo è tipicamente demandato all'amministratore di sistema o altri fornitori il comune deve comunque governare i fornitori tramite i contratti gli incarichi ben dettagliati dicevo che una catena non è più forte dell'anello più debole e noi non possiamo avere sicurezza perfetta ho già detto che non si può eliminare i rischi ma si può mitigare i rischi e questo è il nostro vero obiettivo infatti una delle cosiddette misure minime di sicurezza di cui ne parleremo fra qualche slide si dice che ogni comune deve avere un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità quindi dalla cosa quanto è importante che danno può fare quanto mi costa se avviene un attacco e viene compromesso questo è un processo di come molti altri di gestione del rischio perché per avere sicurezza perfetto dovresti mettere il computer in un cavo senza un collegamento in rete senza un collegamento elettrico per cui puoi arrivare anche da lì e anche in questo caso devi sapere chi può accedere al tuo cavo quindi noi non possiamo arrivare a questo e dare servizi ai cittadini e alle imprese quindi la sicurezza è un gestione del rischio e come tale significa costi e compromessi fra un'analisi di costi e benefici uno delle modalità migliori per analizzare i costi e benefici in sicurezza è stato chiamato il modello di Bruce Schneier che è uno dei guru di informatica e sicurezza delle informazioni e lui dice questi sono i cinque passi quindi quale risorse sta cercando di proteggere cioè dobbiamo definire il problema iniziale cioè qualsiasi contramisura che proponiamo deve proteggere specificamente queste risorse è necessario capire perché queste risorse sono preziosi come funzionano, cosa perseguono gli aggressori e il perché poi dobbiamo chiedere quali sono i rischi contro questi asset cioè dobbiamo analizzare chi minaccia le risorse quali sono i suoi obiettivi come potrebbe tentare di attaccare qui si presta attenzione ai cambiamenti tecnologici poi abbiamo in che misura la soluzione mitica i rischi qui dobbiamo capire se il contramisura che proponiamo o proteggere l'asset funziona correttamente e cosa succede se il mio contramisura finisce quindi questo è un punto importante e le mie soluzioni generano altri rischi perché queste contramisure possono interagire tra di loro e la regola è che ogni contramisura potrebbe creare ulteriori rischi e infine quali sono i compromessi che mi chiedono la soluzione di sicurezza come influisce sul resto del sistema sulla funzionalità dei beni da proteggere dall'efficienza degli utenti e l'efficacia questo è il processo e voglio farvi un esempio di cosa si intende utilizzando le password perché questa è un'area dove tipicamente abbiamo molti problemi molte persone ci chiedono che si fa con le password lo facciamo guarda le password compromessi sono coinvolti in 80% delle violazioni e sono dovuti a errori umani evitabili password facilmente indovinabili quindi questo è il problema i password sono un apporto di ingresso degli attaccanti sono coinvolti in 80% degli attacchi e l'82% di questi errori sono stati facili da evitare quindi cosa facciamo per evitare abbiamo questo problema brutto problema troviamo una soluzione e facciamo queste regole del password no? dicevi deve avere meno caratteri deve avere caratteri maiuscoli uno minuscolo i numeri i simboli deve essere cambiato ogni x giorni e non puoi usare il password no? prima di n modifiche queste tipiche regole del password ok? ma ok cosa genera questo tipo di regola che è assolutamente tipica qui la battuta cioè cambiare il mio password in errata così quando sbaglio il sistema mi dice che il password è errata ma se applichiamo il modello di scenario a questo vediamo i risultati cosa stiamo cercando di proteggere? quali risorse? ok l'amministrazione potrebbero voler impedire l'accesso non autorizzati ai dati o voler impedire l'uso non autorizzati delle sue risorse hardware e software o potrebbe avere danno alla rete e implicazioni legali tutti questi sono buoni motivi per cercare di controllare chi e migliorare la qualità delle password e va bene quindi è un problema quali sono i rischi? ma vediamo i rischi che i criminali possono mettere le mani sui nostri dati dal punto di vista dell'amministrazione e tuttavia il rischio è ciò che potrebbe accadere anche a loro ok? cioè riceveranno sanzioni porti il sindaco da fronte al giudice e funziona e riceverà una valutazione negativa tutti questi sono potenziali conseguenze di un data breach oltre al danno che subisce il cittadino in che modo la soluzione mitica il rischio? e qui le cose cominciano ad essere davvero a crollare è difficile trovare esempi in caso di una password utilizzata per lungo tempo comporta un accesso non autorizzato ma semplicemente non è così che funzionano queste cose sappiamo già che la maggior parte di questi casi derivano da o dall'ingegneria sociale che spinge le persone a rivelare la propria password e il malware che le persone riescono a infilare nel proprio computer in un modo o nell'altro quindi sostenere che costringono le persone a cambiare frequentemente le password potrebbe essere in rari casi effettivamente del bene ma non c'è modo di dire che questa sia in generale una contromisura efficace ok infatti potrebbe creare più problemi di quanto si risolve quali altri sono? quali rischi comporta? beh varietà del tempo e l'attenzione delle persone che devono cambiare la password effettizzare una misura di sicurezza sottrandendo risorsi più efficaci e i rischi che derivano dal modo in cui le persone agiscono in risposta se io dico deve cambiare il password che non puoi usare la stessa password prima di sei altri utilizzi deve variare sei volte prima di riprendere la password abbiamo tanti esempi delle persone che prendono due minuti cambiano le loro password sette volte e la settima volta l'hanno ripreso la prima password quindi cambiano sette e tornano all'inizio è quello che ricordano e questo chiaramente abbiamo solo fatto perdere tempo se è troppo complicato le persone scrivono su un biglietto e che le attaccano sulla scrivania o una cassetta o addirittura sul monitor e così via questi sono i tipici problemi quindi se applichiamo questa quinta domanda quali sono le compromesse? le persone cercano un password facile la parte informatica il sistema informativo è vista con ostilità la help desk riceve tante chiamate perché le persone hanno dimenticato il password mi aiuti a cambiare mi aiuti a ricordare eccetera eccetera quindi tutto questo non abbiamo migliorato la sicurezza e cosa possiamo fare? cosa significa? significa costi benefici guardiamo le alternative e prendo un momento per dire ma come si indovina le password? ed è tutto sommato semplice ci sono programmi software ok il cracking o il hacking è un modo di attacco che coinvolge gli hacker che cercano di decifrare o di terminare un password il cracker recupera un password usando due o tre tecniche le più semplici comuni si può imparare questo un studente nelle scuole superiori e prendi un elenco delle 20.000 password più comuni e si vendono questi sono disponibili online ok un elenco dei password e provi tutti quelli e poi si usa proprio la forza brutta e controlli tutte le combinazioni possibili e quello funziona così quindi prime password che si basano sul nostro pigrizia password diventa password 1 password 2 password 3 e così via oppure si sostituisce le lettere numeri per lettere una chiocciola per la lettera A un zero per un O e così via tutti gli strumenti sono preparati per queste tipiche soluzioni e la cosa più buffo e quando dico che deve essere diciamo 8 caratteri devi iniziare con una lettera a maiuscole devi avere almeno un numero beh quanti numeri ci sono se io ho 7 caratteri indovinati e non ho ancora riscontrato un numero è chiaro che l'ottavo carattere deve essere un numero e ho semplificato la vita del software ho reso ancora più facile trovare il password infatti se guardiamo Windows per esempio sono consentiti 96 diversi caratteri per le password da A a Z maiuscolo minuscolo le cifre da zero a numeri caratteri speciali e lo spazio e quindi un password che è composto di un carattere ci sono 96 possibilità cioè ci sono due caratteri ci sono 96 per il primo per 96 per il secondo e quindi 9000 possibilità e ogni carattere in più moltiplica per 96 il numero di possibili password che si possono avere e la soluzione quindi è più è lungo il password più è difficile decifrare è un password di 8 caratteri ci sono beh non so neanche cos'è 7 3 miliardi di milioni enormi ma se passo ancora più lungo non il password ma quello che si chiama un passphrase è una semplice frase compreso gli spazi che sono accettabili in Windows sono un consonante della Formes del Formes sono 31 carattere il possibile numero di password lunghi 31 carattere è superiore del numero di atomi in questo mondo cioè con ogni carattere in più si aumenta in modo estremamente elevato la complessità non si deve ricordare e non importa se ha lettere o cifre o maiuscolo o minuscolo tanto 96 possibilità sono per ogni singolo carattere è il numero di caratteri che rende il password difficile quindi scegliete una frase che a voi è semplice da ricordare e utilizzate questo perché è lungo molto difficile indovinare pressoché impossibile farlo con i computer esistenti oggi e anche nel prossimo futuro e non lo dimenticate le altre alternative che si comincia a vedere in giro è basata sul concetto di qualcosa che sai quindi un password o preferibilmente un passphrase qualcosa che hai quindi il tuo cellulare un token un applicativo di autenticazione che sta sul tuo cellulare e infine qualcosa che sei quindi l'identificazione biometrica e i sistemi più sicuri usano tutti e tre qualcosa che sai qualcosa che hai e qualcosa che sei non pretendiamo questo per un piccolo comune ma per i dipendenti di un piccolo comune possiamo certamente pretendere password semplice di ricordare ma estremamente difficile se non impossibile a decifrare i standard di riferimento per la sicurezza delle informazioni sono indicati qua sono a livello internazionale in Italia il principale riferimento per un piccolo comune è chiamato le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni sono linee guide linee anzi non linee guide sono obblighi individuati in 2017 dal AGID con un circolare e ancora ne guarderemo in un pochino di dettaglio dopo il resto del quadro parziale qui in Italia sono questi normativi che quale come si notifica chi si notifica in caso di un attacco c'è il cosiddetto CSIRT che è il ex CERT dell'AGID adesso è passato è il Computer Emergency Response Center e adesso è passato in mano all'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale il governo pone la sicurezza informatica in base a tutto il resto al piano triennale informatica tutto il resto pone su una struttura di sicurezza informatica robusto e sta mettendo molto soldi in questo proprio addirittura ha istituito l'Agenzia per la sicurezza nazionale separandolo dall'AGID stesso dato l'importanza e questa ACM sta determinando adesso le linee guida nazionali per la sicurezza e a breve cominceremo a vedere questo declinato in linee guida per le regioni comuni qualche settimana fa mio collega Michele Vianella parlando del piano triennale dell'informatica ha fatto vedere questo slide in cui ha fatto e detto nel piano triennale queste sono le priorità dal SPID al Pago.PA all'App.io alla piattaforma nazionale dati a SEND e così via quali sono le aree dove come piccoli comuni dobbiamo lavorare e fra questi c'è passaggio al cloud e la sicurezza informatica c'è attenzioni enormi del governo su questo noi abbiamo come FAST quattro progetti per aiutarvi e la prima è le misure minime di sicurezza che è un obbligo di legge e vi farò vedere i dettagli fra un attimo la seconda è un capitolato per la nomina di un amministratore di sistema e perché questo perché per raggiungere la conformità con le misure minime di sicurezza un comune che non ha in casa tecnici di informatica con forte competenze deve per forza rivolgersi a un amministratore di sistema esterno ed è necessario sapere cosa chiedere a questo amministratore di sistema perché il rispetto e per le obblighe di leggi contenuti nelle misure minime di sicurezza devono essere messi formalmente nell'incarico nel contratto formalizzato con l'amministratore alcuni amministratori abbiamo visto sono molto disponibili ad aiutare i comuni con questo alcuni altri hanno chiesto soldi per fare ciò che almeno io ritengo parte del loro dovere e quindi i comuni hanno detto ma mi aiuti fare una gara per scegliere un amministratore e abbiamo predisposto un capitolato che possiamo con voi personalizzare per scegliere un amministratore o almeno che voi sapete cosa chiedere ai vostri amministratori poi le modifiche organizzative stanno dentro il regolamento per la sicurezza delle informazioni vedremo che questo serve non solo per formalizzare quali sono i doveri dei dipendenti anche degli amministrativi e ovviamente a protezione del comune ma anche a protezione dei dipendenti e c'è anche l'integrazione di questo regolamento con gli obblighi di sicurezza insito nella gestione documentale perché c'è un capitolo nel manuale per la gestione documentale che riguarda la sicurezza dei dati e infine abbiamo un progetto per la realizzazione di un piano di continuità operativo come dicevo già diverse volte le misure minime di sicurezza l'agir attuando quello che ha visto nel cad ha detto ok devo ma e poi le pubbliche amministrazioni devono mantenere standard minimi di sicurezza relative alle loro infrastrutture e tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a sottostare a queste misure minime di sicurezza cosa sono? queste misure minime sono una serie di obblighi definiti a tre livelli il primo è proprio il livello minimo e ogni pubblica amministrazione deve necessariamente adottare le misure relative a questo livello poi standard è livello superiore è un livello a tendere non pretende nessuno che un piccolo comune raggiungi quel livello ma si può provare e infine abbiamo il livello avanzati sono chiaramente più un ente pubblico tiene i dati sensibili pensiamo delle aziende sanitarie le difese più che deve essere robusto le misure di sicurezza messe in piedi noi per i piccoli comuni parliamo di livello minimo questo è un estratto dal circolare dell'Agid ok è il scopo obiettivo indicare alle PA le misure minima che debbano essere adottate a fine di contrastare le minacce nota bene l'attuazione articolo 3 irresponsabile di cui al 17 cad ovvero è responsabile per la transizione al digitale ha la responsabilità dell'attuazione delle misure minima di sicurezza e le modalità con cui ciascuna misura è implementata devono essere sinteticamente riportate nel modulo e poi vedremo questo modulo da notare che il modulo di implementazione che descrive come hai soddisfatti i requisiti deve essere fermato digitalmente con marcature temporali dall'RTD e dal responsabile legale della struttura e deve essere conservato in caso di incidenti informatici trasmesso al centro di emergenza insieme con le segnalazioni ovvero l'Agid e l'ACN come ho già detto non pretendono che puoi evitare tutti gli attacchi non è possibile ma pretendono che lo rendi più difficile minimamente più difficile attraverso la soddisfazione di queste misure di sicurezza se un comune ha fatto almeno le misure minime troverà la porta aperta da parte del governo per l'aiuto ma se non ha fatto neanche le misure minime di sicurezza rischia una sanzione perché l'Agid può sanzionare come visto dall'articolo 18 del CAD che va da 10.000 a 100.000 euro e anche responsabilità disciplinare oltre potenzialmente responsabilità legale ok quindi va fatta è un obbligo di legge ma cosa sono questi vabbè ci sono otto tabelle ok ogni tabella contiene una serie di singole attività e le tabelle sono fondamentalmente queste hai fatto un inventario dei dispositivi cioè i pc i server e così via sono otterizzati e non otterizzati hai un elenco del software otterizzato e non otterizzato cioè io ce l'hai le licenze se usi microsoft office hai pagato le licenze o stai usando software pirate hai una configurazione hardware e software protetto o hai lasciato che la configurazione che ogni utente può fare quello che vuole può installare tutto il software che vuole introducendo potenzialmente non solo virus ma anche software che come dico operata fai un controllo per continuare delle vulnerabilità del tuo hardware e software quando arrivano gli aggiornamenti di windows o di server vengono applicati vengono installati l'amministratore di sistema che è l'utente che può fare tutto ovvero voi a casa con i nostri computer a casa siamo amministratori facciamo quello che vogliamo ma in un comune no in un comune l'amministratore è l'amministratore di sistema specificamente indicato noi non abbiamo stessi privilegi di un amministratore di sistema avete installato gli antivirus difesi contro il malware avete fatto sì che quando apri certi documenti tipo Word o Excel non possano eseguire in automatico i macro che possono essere molto dannosi hai fatto salvataggio dei dati tenendo copie di sicurezza e così via queste sono le tabelle per ogni tabella c'è una serie di domande e attività che si devono realizzare quindi si deve compilare le tabelle dicendo come l'hai risolto questi problemi o come intendi risolverli quando lavoriamo con un comune con questo lavoriamo con un strumento che parte con un'analisi dell'attuale stato tutta una serie di domande che dice questo è il livello di maturità di sicurezza e il grado di implementazione di ogni controllo questa stessa tabella prende controllo per controllo e dice come la policy non è necessario è applicato è scritto come è stato fatto o come intendo farlo come intendi farlo quando per ogni policy o per ogni attività se è fatta benissimo se non è fatta formalizzando quando verrà fatto perché ripeto non è sufficiente dire lo farò ma la devi dire ah lo farò entro 2025 e poi quando l'hai fatto la devi dire deve aggiornare quel modulo dicendo è fatto progressivamente lo fai secondo il cronoprogramma o lo aggiorni il cronoprogramma ma il governo può in qualsiasi momento dimmi hai detto che l'avresti fatto questo nel primo trimestre di 2025 e adesso siamo a 2026 l'avete fatto eccetera state dando attenzione a queste problematiche quindi lo strumento che lo utilizzeremo analizza controllo per controllo dove siete propone soluzioni e questo strumento va fatto compilato insieme col team del FAST voi e i vostri amministratori di sistema perché circa 70% delle attività sono come dicevo attività tecniche 30% sono attività di governo e vi do un esempio di cosa intendo qua per accedere internet tutti voi avete router e strumenti per controllo della rete e all'interno di questi strumenti ci sono il cosiddetto firewall che sono software che dice ad esempio quali sono i siti proibiti dove i dipendenti dei comuni non possono andare a guardare uno per dire non puoi andare sui siti pornografici mentre stai lavorando col tuo pc nel comune ok e il comune definisce la politica di quali siti non devono essere resi disponibili quindi il comune che dice niente siti pornografici non puoi andare sui siti della Corea del Nord o questo e quello poi quella è la politica di governo e le competenze del comune l'attuazione di quella politica la trasformazione di quella politica in comandi specifici per il firewall gergo tecnico processo tecnico è la responsabilità dell'amministratore di sistema ve lo dico subito che un buon amministratore di sistema almeno 75% di questi controlli richiesti dalle misure minime l'avrà già fatto sono chiamate le misure minime per una ragione sono cose di base che ogni amministratore avrebbe dovuto già fare per la maggior parte ma voi tipicamente non avendo competenze tecniche non sapete come è stato fatto e il governo vuole sapere che è stato fatto e come è stato fatto e per questo è necessario compilare questo assieme all'amministratore di sistema e per quelle parti che non sono ancora stati fatti si deve discutere come l'amministratore intende farlo e voi come intendete governare il processo non è molto difficile infatti secondo l'Agid cinque controlli applicati bene evitano il 85% degli attacchi fai il controllo del hardware fai il controllo del software installato gestire le vulnerabilità quando esce un patch lo installi quando c'è una nuova versione dell'antivirus lo installi e così via controllo chi ha i privilegi dell'amministratore cioè l'utente tipico non deve avere questi privilegi deve essere molto limitato e utilizza una configurazione sicura su tutti i dispositivi aziendali pc portatile cellulare e così via questi sono i controlli più semplici per assicurare che ci sia una linea coerente tra quello che c'è scritto nelle misure minime e quello che deve fare l'amministratore di sistema che ha detto questa è una persona chiave in tutto il processo abbiamo il nostro secondo microprogetto dove vi aiutiamo se dovete scegliere un amministratore o rifare possiamo aiutarvi con un capitolato speciale per l'amministratore in cui diciamo tutto quello che si potrebbe chiedere a un amministratore che sia una singola professionista o un'azienda infatti c'è così tanto qua che il vero lavoro di personalizzazione significa eliminare le cose che non interessano al comune perché abbiamo anche la gestione potenziale gestione della telefonia e altre cose che un comune potrebbe dire non mi interessa non mi serve quindi è un capitolo estremamente completo che il comune va personalizzato secondo le esigenze del comune se guardiamo solo un piccolo componente in questa modalità di esecuzione attività inerente alle misure minime abbiamo un elenco ok di tutta una serie di cose che l'amministratore deve fare in cui nel rispondere a questo capitolo deve dire io farò mia azienda farà tutte queste cose c'è un elenco di tutte le cose e quando si dà l'incarico quando si stipula il contratto voi potete restare tranquilli che formalmente avete dato il compito al vostro amministratore e potete stare tranquilli poi se non lo fa è un'altra storia ma voi come comuni siete protetti perché avete correttamente dato incaricato un amministratore di tutte le cose che dovrebbe correttamente fare la nostra terza cosa riguarda la parte documentale e organizzativa il CAD in articolo 44 dice che è responsabile per la gestione documentale e è responsabile per la transizione digitale devono lavorare insieme e produrre dentro il manuale del gestione documentale le linee che il piano di sicurezza e questo è specificamente dice nelle linee guide è responsabile acquisito pareri del responsabile per le prezioni da predispone il piano di sicurezza come lo fa questo se non è già in vostro manuale la soluzione più semplice è integrare questo in un regolamento generale per la sicurezza delle informazioni ok e questo è un documento che definisce tutte le regole compiti e responsabilità per mitigare i rischi e per assicurare un corretto utilizzo degli strumenti prevede anche opportune misure tecniche e organizzative per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali che è quello che vuole il manuale di gestione documentale quindi un regolamento per tutto diciamo e questo per esempio è l'indice di un regolamento e come potete vedere si parte dai riferimenti dalla scrivania pulita come usare il credenziale il user ID il password i PC vengono inventariato se usi strumenti privati per esempio da casa come deve collegarsi quando lavori in rimoto deve avere un connessione sicuro come vengono salvati i dati l'antivirus la posta eccetera eccetera e il ruolo dell'amministratore di sistema cosa deve fare un comune quando dismette un PC a parte il fatto che il PC non può essere buttato nella spazzatura perché sono rifiuti speciali perché sono elettroniche come va fatto aggiornato l'inventario cancellato i dati sui dischi come fare questo e questo e così via e questo è il regolamento che la bozza la traccia di questo regolamento noi forniamo e poi lavoriamo con voi per personalizzare queste esigenze del comune infatti il capitolo quando parliamo di scrivania pulita si tratta anche di un requisito del CAD che dice non è raro che una veloce pausa caffè in ufficio si trasformi in qualche minuto in più lontano della scrivania se hai lasciato il tuo PC aperto ho documenti sulla tua scrivania documenti del pubblico in bella vista abbiamo un problema ok l'idea della scrivania pulita è semplice dove è possibile la carta quindi non stiamo parlando solo della sicurezza informatica ma la sicurezza delle informazioni in senso l'atto non si lascia carta con dati sensibili sulla scrivania e certamente non va bene a dire ma quando vado a casa chiudo a chiave la porta perché poi arrivano le persone della pulizia documenti cartacci con dati sensibili vanno messe in un armadio e una cassetta chiusa a chiave ok informazioni sensibili devono essere rimosse dalle stampanti subito schermo metti un screen saver windows per non lasciare visibile alle altre persone tuo schermo se contiene dati sensibili queste sono tutte misure molto semplici non tecniche ma aumentano in modo non banale la sicurezza delle informazioni il nostro ultimo progetto riguarda un piano di continuità operativa prima c'era un obbligo del CAD in 50 bis le pubbliche amministrazioni dovevano definire un piano di continuità che fissava obiettivi eccetera eccetera è stato abrogato in 2016 ma ma infatti rimane l'obbligo perché il tema della continuità è ancora presente in articolo 51 che dice soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione disponibile integrità alla riservatezza dei dati e la continuità operativa e di sistemi e infrastrutture questo riguarda i dati e comma 2 della stessa articola dice che i dati informati i documenti informatici devono essere costituiti controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita e così via poi il GDPR dice che fra l'altro la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di un incidente fisico o tecnico quindi rimane l'imposizione di garantire la continuità dei sistemi ma ogni pubblica amministrazione può sviluppare e gestire in autonomia non è più necessario seguire il modello che era predisposto in 2012 dall'Agid ok ognuno può fare come ritiene migliore prima era molto lungo il processo e la complessità del processo che era stato inventato è uno dei motivi per il quale è stato cancellato però si deve comunque garantire una certa continuità e c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato che dice è ricompreso il Consiglio di Stato dice di ritenersi ricompreso nell'articolo 51 del codice nella parte in cui dispone che le regole tecniche bla 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 del CAD devono anche individuare le modalità che garantiscono l'esattezza e disponibilità accessita integrità riservatezza dei dati dei sistemi delle infrastrutture informati in attuazione peraltro dei criteri e deleghe bla 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 si deve fare un piano di continuità noi abbiamo una traccia di un piano che abbiamo diviso in due sezioni per tenere conto delle cambiamenti in corso con il passaggio dei sistemi informatici al cloud quindi prima chiaramente i software applicativi erano installati e governati integralmente presso i server dei comuni adesso nel rispetto degli obblighi di legge mi pare che il decreto legislativo 76 di 2020 i piccoli comuni devono chiudere i datacenter e migrare verso l'ambiente cloud in questo caso il comune non ha più la necessità di effettuare le quotidiane attività di backup dei dati aggiornamenti dei sistemi operativi applicativi e questi incombensi possono essere lasciati ai fornitori ma detto questo il comune dovrà assicurare che i fornitori siano contrattualmente obbligati a fornire tali servizi quindi il controllo delle clausole contrattuali è estremamente importante per assicurare che la maggior parte dei fornitori hanno clausole standard che comprendono questo ma è doveroso che il comune verifica questo poi oltre a questo abbiamo discorso della connettività verso il cloud perché quando il sistema è gestito da un server nell'altra stanza del stesso palazzo del comune i problemi di connettività sono trascurabili ma quando tu arrivi ai tuoi applicativi tramite la rete internet se la fibra viene tracciata o c'è qualche problema di collegamento tu non lavori più tu sei tagliato fuori dagli applicativi e dai dati che sono adesso in cloud lontano dal tuo comune quindi il continuità operativa prevede deve prevedere anche una forma di collegamento all'internet ridondato forse lento forse sisopica ma si può arrivare ai dati quindi c'è la necessità di pensare anche ai collegamenti e infine il software che rimane in loco ci sono componenti che rimangono in loco lì si deve gestire come in precedenza con tutte le problematiche di aggiornamento backup salvataggio cosa faccio se ho un disastro o un'emergenza come risolvi questi problemi infine due parole sulla formazione ai dipendenti ho detto il primo bersaglio degli attaccanti sono i dipendenti tramite il sistema di phishing scarico malware social engineering abbiamo visto un mese fa un titolo e una riacutizzarsi di una campagna di phishing fingono di essere assistenza tecnica e serve per ottenere le credenziali degli utenti quindi la creatività degli attaccanti non finisce mai la formazione è quindi l'elemento più importante i comuni devono lavorare per sensibilizzare i dipendenti sui rischi associati con un click su un collegamento in un email di phishing o il download di un allegato di un mettente sconosciuto o alle risposte di informazioni sui credenziali la formazione dei dipendenti è uno degli strumenti meno costosi e più efficaci che un comune può utilizzare per ridurre il rischio di un attacco e la formazione può essere sia formale che informale e infine è talmente importante che nell'ultimo piano triennale di informatica della G24 c'è uno specifico obiettivo dedicato a promuovere le attività al miglioramento della cultura cyber delle amministrazioni delle sensibilizzazioni dei dipendenti a queste problematiche in ogni amministrazione e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione e l'abbiamo concluso e lei ripassa la pala a te ecco grazie grazie David grazie del tuo intervento molto molto chiaro e volevo a questo punto insomma lasciare un pochino di spazio alle domande intanto comincio io con il porre diciamo a David qualche domanda che ci è venuta in realtà direttamente dalle da voi cioè dalle amministrazioni e dai comuni con i quali fino a questo momento abbiamo lavorato che sono state raccolte insomma grazie appunto ai nostri esperti che lavorano nelle task force che appunto attivandosi nell'assistenza su alcuni progetti diciamo proprio legati alla sicurezza microprogetti legati alla sicurezza informatica insomma ci hanno posto hanno posto insomma alcune questioni che credo che sia utile condividere con tutti quanti e una di queste cose diciamo che possiamo in qualche modo esemplificare così è spiegare un po' cosa significa diciamo appunto questo l'avevi accennato nel corso della tua della tua relazione cioè cosa significa utente amministratore e perché appunto è sbagliato che i computer siano così configurati appunto tu dicevi dice il computer del non è il proprio computer il computer sul quale si lavora quindi sul quale ovviamente bisogna osservare insomma avere delle attenzioni quindi forse diciamo la risposta più semplice è che eviti che un utente dipendente del comune scarica software non autorizzata e nel scaricarlo mette il comune potenzialmente in difficoltà in diversi modi ad esempio scarica un software che deve pagare ma non pago il comune non paga e quindi il comune è in quel momento in una condizione di reatto sta usando un software per il quale non ha una regolare licenza d'uso non si può fare questo in un ente pubblico cioè già i nostri figli fanno queste cose con i giochi eccetera eccetera ma un ente pubblico non può fare questo non può permettersi di avere il software pirata poi l'altro rischio ancora più grave è quel software chi lo garantisce che è libero di malware che non è infetto e quindi voi state mettendo a pericolo l'intero sistema informativo del comune e non solo i vostri pc ma poi questo tipo di malware può propagarsi in ogni altro pc della rete ok e nei server quindi per questo è assolutamente vietato che ogni utente sia proprio il comandante il capitano del proprio pc quel capitano l'unica che può installare software e dico questo installare su richieste del responsabile per la transizione al digitale quindi l'RTD dice sul pc di David Harris di Irene Torrente di chi installe per cortesia questo prodotto e dicendo quello sta dicendo o è freeware che abbiamo verificato che non ci sono licenze o abbiamo pagato c'è un regolare licenza e per favore installatelo sul pc di questa persona e poi l'amministratore di sistema entra e fa quel scarico l'amministratore può fare tutto in ogni pc e in ogni server della vostra rete e proprio questo vuol dire essere amministratore hai accesso a tutto quindi potenzialmente sei la persona più pericolosa dell'intero sistema ecco perché viene data ad un'unica persona che ha chiare e forti competenze informatiche quindi che sa cosa sta facendo e anche lì va monitorato controllato il log cioè non deve mai usare quelle credenziali di amministratori se non sta facendo qualcosa che non richiede i poteri in più che ha un amministratore quindi c'è una come posso dire una deontologia anche richiamata dalle misure minime di sicurezza su come vanno utilizzati i poteri insiti nel ruolo dell'amministratore come dire potenzialmente la persona più pericolosa in assoluto grazie l'altra cosa che appunto un'altra domanda che è stata posta era quali sono diciamo le cose che dobbiamo pretendere dai nostri fornitori in termini di sicurezza insomma quindi di che cosa è importante assicurare la presenza quando abbiamo un contratto per esempio in cloud in cloud in un altro webinar l'abbiamo illustrato che il cloud fondamentalmente può essere visto come un piramide e al vertice di quel piramide ci sono gli utenti comuni che usano il software sotto quel piramide nel secondo livello c'è il software applicativo ovvero il software per i tributi per la polizia municipale per il protocollo e diversi sistemi che usa un comune e tutti quelli software applicativi si poggiano su un'infrastruttura hardware fornito da ancora un altro fornitore ovvero il hardware tipicamente utilizzato in cloud è fornito da West Point Amazon Google Microsoft Telecom grandissimi fornitori che hanno immensi data center e mettono a disposizione per un prezzo loro infrastruttura hardware e quel servizio di mettere a disposizione l'infrastruttura hardware si chiama in gergo IAS infrastruttura as a service come un servizio quindi io mensalmente o annualmente pago un canone per l'utilizzo di quel hardware il fornitore di software che sia Hali o Maggioli o Dede Group o PA Digitale cioè che fornisce i vostri sistemi informativi pogge i suoi applicativi su quel hardware voi i comuni non comprate più licenze d'uso del software comprate il diritto di utilizzare il software è un servizio e pagate un canone mensile o annuale per il diritto di utilizzare il loro software non ci sono più le licenze d'uso in cloud quello si chiama software as a service cioè software come servizio il fornitore del software tipicamente ha fatto il contratto con il fornitore dell'infrastruttura e quel contratto è nascosto dal comune il comune fa un unico contratto con il vostro fornitore di software ho detto Maggioli PA Digitale Halley Data Group eccetera eccetera voi fate il contratto con questo fornitore e quel fornitore fa un contratto con il fornitore di infrastruttura ed è nascosto da voi ma è il fornitore di infrastruttura che effettua tutte le cose riguardo la continuità e la sicurezza dei dati che è il fornitore di infrastruttura che deve fare i salvataggi dati tenere le coppie separate in un posto fisicamente distante dal sito principale che assicura che in caso di disastro può ripristinare i dati in tempi molto stretti e così via tutti questi sono garantiti dal livello che il comune non lo vede è quel stesso livello che dice i dati in trasmissione sono encritati e non visibili a chiunque può catturare i dati sono già cifrati quello quel lavoro quel contratto non è nascosto dal comune perché è il fornitore software che fa il contratto col fornitore hardware infrastrutture il comune quindi deve controllare che nei contratti che ha col fornitore software applicativo che esistono queste garanzie clausole che dice mi farete il salvataggio dati con quali intervalli giornaliero ogni 5 minuti ogni 10 secondi una volta alla settimana che garanzia ho per ripristino in quali tempi e così via queste sono le prime cose di controllare quando con nostri fornitori di cloud seconda cosa credo estremamente importante perché abbiamo visto comuni che stanno soffrendo qua uno dei bandi PNR è il bando 141 chiamato esperienza dei cittadini è il bando in cui è chiesto al comune di modificare il portale di adeguare il portale alle specifiche tecniche dell'Agid e simultaneamente di introdurre tutta una serie di servizi per i cittadini ad esempio dal customer satisfaction istanze online quindi ogni istanza che un comune eroga devo progressivamente trasformarla da cartace in online e quindi il cittadino da casa come fa un bonifico con la banca sta lì e apre una pratica come già oggi è disponibile per chi va alla NPR e chiedi un certificato anagrafico quindi se io voglio che ne so iscrivere i miei figli nel nido devo poter fare questa pratica online se voglio chiedere un loculo nel cimitero devo chiedere posso fare la pratica online il problema con questo è il portale è il bando il bando è l'adeguamento del portale ok e quindi c'è un fornitore che farà questo adeguamento del portale e la creazione delle istanze online ma c'è un altro bando per la migrazione in cloud del sistema informatico quindi o si migra quello esistente o si è preso una nuova versione ma quello è tutto il cosiddetto back office quello non fa parte del portale che interagisce direttamente col cittadino il portale contiene amministrazioni trasparenti e il sito web del comune che ha una parte dei servizi online se il fornitore A vince il bando per il back office il sistema informatico back office protocollo tributi eccetera eccetera e il fornitore B vince il bando per il front office il portale è fondamentale prima di stipulare i contratti che i due fornitori abbiano chiari che loro devono integrare i dati dell'uno e dell'altro perché io devo passare i dati recepiti dal portale al sistema di protocollo e al resto del back office e poi i stati di avanzamento di questo back office devo comunicare al portale in modo che viene messo nel cruscotto del cittadino dove un cittadino deve sapere a che punto è mia pratica quindi il front end e il back end devono dialogare ed è necessario che ci sia chiarezza anche a livello contrattuale di questo preferibilmente a livello contrattuale fra i diversi fornitori per evitare che uno fa il front office uno fa il back office e i due non parlano e poi ti dicono beh non ti costa più di tanto per fare queste integrazioni se volete evitare questo si insiste su chiarezza prima e state molto attenti se avete già fatto i bandi io vi consiglio di portare i fornitori se non dicono di farlo gratuitamente ma se qualcuno chiede soldi lo porti di fronte al dipartimento per la trasformazione al digitale e le persone del dipartimento avranno molto piacere a spiegare ai fornitori che non è così ma hanno un obbligo di far sì che le due cose parlino fra di loro però questi direi che sono in questa fase forse le cose più importanti che possiamo riscontrare ho visto se posso dire che qualcuno ha chiesto in chat capitolato per l'amministratore di sistema volevo rispondere nel senso che questo potrebbe essere oggetto diciamo di uno e uno dei nostri microprogetti quindi diciamo una volta noi sapete diciamo che la modalità di intervento e di assistenza da parte delle task force avviene attraverso appunto prima un'analisi di quello che è lo stato del comune lo stato di digitalizzazione del comune e poi insieme diciamo con l'amministrazione scegliamo anche il microprogetto diciamo da fare insieme e uno di questi che appunto in questo ci sono anche dei documenti a supporto delle bozze ovviamente che sono state preparate che possono essere di supporto quindi naturalmente diciamo quando con con il comune si deciderà di fare questo microprogetto diciamo lo vedremo insieme lo vedranno insomma lo vedrete insieme con le task force e con gli esperti che vi accompagneranno in questo percorso e c'era un'altra domanda di Elisa Giampaoletti che chiedeva diciamo sempre a proposito del responsabile della transizione digitale se è necessario che sia individuato forzatamente tra i già aventi posizione organizzativa o comunque chi ha funzioni dirigenziali visto che nei piccoli comuni è difficile che esista il dirigente nonostante appunto che questa persona diciamo possa non avere conoscenze tecniche tecnologiche oppure è possibile individuarlo internamente nella figura di un dipondente che magari più giovane ma con contratto da istruttore non da funzionario e che non ha una posizione organizzativa o una qualifica dirigenziale questa è una vexata question a mio avviso la risposta è no è per questi motivi è lo stesso motivo per il quale l'RTD deve essere un dipendente e non può essere esternalizzato e questo è perché le scelte dell'RTD coinvolgono non sono informatica ma anche organizzazioni e quindi si richiede un ruolo di rilievo all'interno del comune è un ruolo apicale nel dominio di informatica risponde direttamente al sindaco e quello che dice in questo dominio è legge o il comune si è adeguo o il sindaco cambia l'RTD ma non puoi avere tutti e due invece siccome molti comuni non hanno funzionare con le necessarie competenze tecniche la legge dice che si crea l'ufficio del responsabile per la transizione al digitale e a capo dell'ufficio si mette l'RTD quindi in questo caso se avete qualcuno più giovane ma ha maggiori competenze se lo metti nell'ufficio assieme preferibilmente anche agli altri responsabili di servizio di ufficio in modo che sia chiaro che l'ufficio per la transizione al digitale è un ufficio che condivide il concetto che non è un'unica persona non è il povero diavolo che è l'RTD che deve fare tutto e assumi tutta la responsabilità no c'è un ufficio di persone responsabili nel comune e magari anche qualcuno con competenze tecniche anche se è giovane che insieme aiutano l'RTD a fare le cose a prendere le decisioni giuste grazie allora se sono finite le domande mi sembra mi sembra di sì vi riporto vi ricordo soltanto oltre che appunto ringraziare David sempre per la chiarezza e ringraziare voi tutti per la presenza volevo ricordarvi che la prossima il prossimo webinar sarà appunto la settimana il giorno 11 aprile e un attimo che vi condivido sarà l'11 aprile e appunto sarà sul tema degli open data e quindi ci sarà nostro relatore Gianfranco Andriola un nostro appunto collega che fa parte appunto del gruppo di lavoro fast e insomma lavora qui al Formez con noi e che ha sempre insomma molto lavorato su queste tematiche e quindi parleremo insieme vedremo insieme di come appunto si può dare i piccoli comuni diciamo possono mettere online e a disposizione set di dati che possono appunto essere di interesse non solo per la propria amministrazione ma insomma in generale anche diciamo con uno con uno sforzo limitato e senza per forza essere grandi esperti però questo può dare un grande valore aggiunto ricordo quindi l'11 aprile sempre alla stessa ora alle ore 15 e riceverete al solito insomma il il nostro invito le slide di questa di questa relazione di oggi saranno pubblicate sulla notizia che è sul sito del Formez in particolare nella pagina nel focus tematico territori in rete dove appunto c'era la notizia pubblicheremo qui le le slide della presentazione di David Harris e qualunque cosa diciamo vogliate appunto comunicarci lo scrivevo prima in chat alla collega Cambria potete farlo scrivendo alle le nostre mail che vedete qui in video e quindi poneteci insomma qualunque problema qualora non fosse state ancora contattati o qualora aveste qualsiasi altra curiosità l'altra cosa che vi chiedo è appunto adesso alla fine diciamo di questa sessione del sarete rendirizzati su una pagina dove potrete esprimere diciamo il vostro gradimento o comunque dare i vostri suggerimenti rispetto appunto a questi webinar alle tematiche a come li abbiamo trattati e quindi ogni vostro suggerimento è gradito qualora appunto c'era sempre la collega cambria che diceva che non aveva non era stata reindirizzata sulla pagina del questionario qualora doveste avere problemi potete sempre scriverci e vi manderemo direttamente il link per compilare il questionario insomma perché ecco ci fa molto piacere avere avere un riscontro da voi tutti quindi detto ciò vi saluto insomma avremo altro modo di vederci prossimamente vi ringrazio della partecipazione vi auguro buone festività e ci vediamo l'11 aprile grazie a tutti ancora buona giornata grazie a tutti